Lavori in azienda e vorresti toglierti quel vizio comunicativo che avverti e che senti ha un impatto sui tuoi processi lavorativi? Allora magari ti capita di sentire che hai un'abitudine nel tuo modo di comunicare e che questa abitudine sta limitando la tua efficacia o magari creando tensione. Bene, sei nel posto giusto. In questo video scoprirai quali sono i vizi comunicativi più comuni e ti darò anche qualche spunto per iniziare a liberartene. Pronti? Iniziamo. Prima di tutto, quali sono i vizi comunicativi più comuni in azienda? Il primo fra tutti, generalizzare. Espressioni come nessuno si impegna, sbagli sempre, sono tipici esempi di generalizzazione. Perché è un problema? Perché le generalizzazioni chiudono il dialogo, limitano la possibilità di risposte costruttive. Non dire o supporre. Lasciare sottintesi pensando che gli altri comprendano automaticamente ciò che intendi genera incomprensioni, spesso porta malintesi che poi ostacolano la collaborazione. Un terzo vizio riguarda il reagire in modo impulsivo. Rispondere immediatamente, distinto, di pancia, senza filtrare. Perché è un problema? Perché l'impulsività riduce la lucidità, rende la comunicazione troppo emotiva a scapito dell'efficacia. E poi c'è la negatività costante. Cioè concentrarsi sugli aspetti negativi in ogni situazione è un problema. Perché questo approccio demotiva il team, i tuoi colleghi, generano un ambiente teso, poco collaborativo, poco fluido e sereno. Ora, non so se ti sei riconosciuto in uno di questi vizi anche nel tuo modo di comunicare. Adesso vediamo insieme come iniziare a lavorarci. E ti propongo tre passi pratici. Questa tecnica si articola in tre passi che ti guideranno in modo strategico per osservare, comprendere e anche poi ridurre il vizio o i vizi che hai individuato. Per prima cosa indaga il tuo vizio comunicativo. Inizia con un'analisi approfondita. Ogni volta che noti questo vizio della comunicazione chiediti ma quando si manifesta? In che contesto? Verso chi? Prendine nota. Come se fossi una sorta di valutatore esterno annotando ogni dettaglio nel tuo brogliaccio, nel tuo diario di bordo. Chiediti cosa potrei fare per peggiorare la situazione. Questo è il secondo passo. È un passaggio controintuitivo perché ci chiediamo come fare a peggiorare, ma pensa a come potresti deliberatamente, per assurdo, rendere il tuo vizio ancora più evidente, più problematico. Fai una vera e propria lista scritta di tutte quelle azioni che potresti intraprendere per esasperare quel vizio comunicativo. Questo esercizio ti permetterà di prendere la distanza e osservare l'impatto che quel vizio potrebbe avere anche sugli altri e su di te. Terzo passaggio. Aggiorna la lista e tienila monitorata. Immagina per un momento quanto sarebbe frustrante se questo vizio continuasse a ripetersi ogni giorno, peggiorando le tue interazioni o bloccando le possibilità di crescita sia per te ma anche per chi ti circonda. Generalizzare per esempio dicendo frasi come nessuno si impegna mai oppure sbagli ogni volta. Crea un ambiente chiuso, privo di stimoli positivi. Oppure presupporre che gli altri capiscano senza che tu magari espliciti ciò che intendi causa incomprensioni, distanze. Immagina nel dettaglio le azioni pratiche che si susseguono. O cosa fai, come lo fai, verso chi? Appunta tutto. Alla fine della tua giornata torna alla lista, quella scritta, e metti una spunta accanto a quelle voci, quelle negative che hai messo in atto. Spero che questo percorso in tre passi, molto semplice, ti potrà essere utile. Noi non crediamo alle formulette, sappiamo che il cambiamento richiede tempo, processi specializzati, però questo è solo un piccolo primo step per iniziare a metter mano sulla tua comunicazione in un modo magari diverso. Ma se vuoi approfondire il tema iscriviti al nostro canale per non perderti altri contenuti sul coaching strategico oppure contattaci perché ti sosterremo nel tuo cambiamento a piccoli passi. Ciao e alla prossima.